Ciao ragazze, secondo esperimento in velocità perché stavolta registro in pausa pranzo Ormai ho deciso di fare così, di tagliarmi i momenti di tempo in cui magari ho un'ispirazione e ho quei 10 minuti che devono essere assolutamente cronografati per fare i miei video come al solito interagisco con voi, vi ho detto su facebook di aver fatto degli acquisti vi ho detto che ultimamente sono sempre alla ricerca di cosettine carine ma che costino poco sono sempre lì a spulciare, a cercare occasioni poi avendo un negozio di abbigliamento comunque, abbigliamento bimbi vi ricordo comunque ho possibilità di vedere le cose in anteprima dai vari rappresentanti e quindi a volte trovo delle occasioni al volo non è questo il caso questa volta infatti sono andata in una boutique e ho preso alcune cosette e poi sono andata dai cinesi dalla mia cinesina di fiducia, la famosa cinesina di fiducia che chi mi segue da sempre sa esistere chi non mi segue da sempre, mi segue da poco, saprà esistere boutique che adoro veramente ho preso questa bellissima, secondo me, maglietta, maglia che è fatta di questo tessuto che adesso va tanto di moda ma che comunque a me piace tanto che è un color corda melange, non so se potete apprezzare trasparente diciamo, per cui bisogna mettere qualcosa sotto però la particolarità è che ha questo disegno davanti questa stampa di un cuore fatto tutto a borchie borchiettine che sono tra l'altro sia argento non so se potete vedere che è d'oro cosa che mi consentirà quindi di fare degli abbinamenti più vari perché altrimenti siamo sempre un po' legate se ci sono delle cose, delle applicazioni dorate dobbiamo mettere l'accessorio dorato e così via invece essendoci qui entrambi i colori diciamo la cosa mi lega, mi vincola un po' meno quindi ragazzi, questo è il modellino dietro è più lunga che davanti che sul davanti e poi davanti a questa doppia ripresa vedete che le rende davvero molto molto particolare come se fossero due maglie c'è una sull'altra mi è piaciuta tantissimo questa mi pare di averla pagata 14 euro se ben ricordo vicino al mio negozio c'è un negozietto, una profumeria che vende anche questi braccialetti braccialetti cruciani li conoscerete tutti io ne avevo due e ho potuto comprarne un altro perché la proprietaria stava facendo una promozione una sorta di promozione per cui i colori della scorsa stagione che magari erano rimasti o comunque non aveva venduti venduto erano dentro un cesto a 5 euro per cui io questo che di solito costa sulle 10, sulle 15 non lo so con il simbolo dell'infinito l'ho pagato 5 euro quindi prendo occasione perché trovare un braccialetto a 5 euro di cruciani mi è sembrata un'occasione quindi l'ho preso vedremo se ne prenderò altri non lo so dai cinesi ho trovato queste gonne qui che sono delle semplicissime delle semplicissime gonne a tubo abbastanza corte abbastanza corte ma che vanno diciamo quasi quasi si arriva nel ginocchio che mi piacciono tantissimo perché mi piacciono indossarle sia a vita alta con dei top che normalmente con delle camicette con delle camicette dentro e quindi siccome ultimamente sono un po' in fissa con le camice e ne ho comprata anche una molto 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 carina da Abinane a questa gonne che vi ho fatto già vedere nell'all precedente ho preso questa di questo colore nero per vedere come mi ci trovo per vedere se ancora mi ci trovo diciamo se mi trovo a mio agio ad indossarle se così sarà ne farò incetta perché ce n'erano di tutti i colori e mi sono costate con gli sconti normalmente quindi a prezzo pieno diciamo così costano 7 euro ora le ho trovate a 4 euro alcune addirittura a 3 quindi ne ho preso questa nera e poi eventualmente ne prenderò altre perché c'erano dei colori molto belli molto estivi c'era un corallo un verde acqua davvero molto carine poi ragazzi questa qui l'ho presa sempre da questo negozio qui di cinesini e mi è piaciuta tanto perché l'avevo vista in vetrina qui che cosa succede ci dovrebbe essere un bottoncino sono fatte davvero davvero bene questi capi ragazze questa mi è costata 18 euro ed è questa camicia in jeans qui io utilizzo tanto le camicia in jeans questa qui l'avevo vista mi era piaciuta a corto gioco da tempo aspettavo gli sconti che non ci sono mai stati e quindi siccome mi serviva l'ho presa molto 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 carina ha queste applicazioni anche qui ritorno il concetto delle borchie e delle perline come vedete in alcuni casi anche degli strass qui ci sono delle stelline e poi si vengono riproposte queste borchiette qui sulla tasca vabbè la vedete non c'è bisogno che la sto a descrivere è molto 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 carina secondo me ho preso questa camicia che indosso che è una camicia semplicissima azzurra molto molto particolare molto carina mi piace tanto è una camicia che richiama molto le camicie maschili dà proprio l'idea della camicia maschile secondo me la camicia azzurra e mi piace tantissimo l'ho messa stamattina con un paio di pantaloni neri poi naturalmente sono passata dalla gardenia ahimè e ho preso delle cosettine che mi servivano ma giusto tre perché mi sto trovando veramente bene con questi che sono gli stay matte di essence ne ho già uno eccolo qui lo utilizzo spesso ho il numero uno il velvet rose avevo il numero uno e ho voluto prendere anche il numero due lo smooth berry questo qui che è un colore un pochino più acceso e più adatto secondo me alla primavera mi piacciono tantissimo questi qua e ve li consiglio costano pochissimo e hanno veramente un'ottima resa ho preso questo ragazze che è uno dei lip gloss XXXL shine di essence che sono quelli della linea permanente e volevo un colore cioccolato mi sono fissato ultimamente con questo colore lo volevo un lucidalabra color cioccolato ho visto che è abbastanza pigmentato che il costo non era altissimo e quindi l'ho preso ragazze tra l'altro mi piace anche il profumo di questi lip gloss di essence ne avevo anche un altro che in questo momento non trovo non lo so dove poi io utilizzo molto di più i gloss che i rossetti come sapete per cui non potevo lasciarmelo sfuggire diciamo che sono molto infissa col colore cioccolato sulle labbra ragazze è così vado a momenti vado a periodi e poi ho preso questo perché tante volte avevo guardato visto rivisto toccato preso posato questo via questi ombrettini qui questi nuovi di essence poi siccome mi serviva un colore diciamo verde smeraldo insomma un colore molto primaverile perché ho una camicina anche di questo colore e volevo farci un trucco abbinato ho deciso oggi di prendere questo ed è questo colore bellissimo questo è il numero 6 il Resistible Mermaid Irresistible Mermaid Kiss Mermaid Kiss non lo so comunque questo colore qui ragazze molto bello veramente guardate che meraviglia soltanto a sfiorarlo questa è la parte più chiara e poi c'è la parte più scura che è questo verde molto 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 bello è un colore che va molto di moda questa primavera io uno così non ce l'avevo e tra l'altro volevo provare questi di essence per cui ho unito l'utile al dilettevole questo è quello che vi volevo mostrare oggi spero che in questo video voi abbiate potuto trovare qualche spunto come al solito vi dico io adoro i video haul e adoro anche farli e adoro anche renderli possibili quindi concretizzarli con degli acquisti ragazzi soprattutto in periodi in cui ci sentiamo un po' giù l'acquisto frivolo ci solleva sempre un po' il morale poi se troviamo delle occasioni delle cose a poco prezzo è sempre meglio di questi tempi per cui ragazzi tutto qua io vi mando un grande bacio ciao ciao ragazze che emozione ciao ragazze è tanto tempo veramente che abbiamo registrato un video per voi